Trafano e Rimini finisce come l'andata 1-1, ma questa volta sono i biancorossi a farsi raggiungere, dopo aver cullato per mezz'ora il sogno a tre punti. Restano 5, di fatto 6, vista la penalizzazione dei Granata, le lunghezze di vantaggio dei Romagnoli nei confronti dei marchigiani terzultimi. Mentre i risultati provenienti dagli altri campi non sono certo positivi per i ragazzi di D'Angelo, anche se la salvezza diretta resta tre punti più in su. Al Mancini il segno X rispecchia quanto visto in campo, con il Rimini che si è fatto preferire nei primi 45 minuti, chiusi con la rete del vantaggio, ed il Fano che si è comportato meglio nella ripresa. Il primo spunto è di Marras, che all'ottavo mette al centro per Onescu, il centrocampista non riesce a sfruttare l'opportunità. Al ventesimo D'Alessandro tenta la voleda al limite dell'area, pallone oltre la traversa. Al venticinquesimo Sevieri calcia da fuori, Amaranti devia e Scotti vola a salvare in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di D'Alessandro, il colpo di testa di Colombaretti è fuori bersaglio. Al ventinovesimo Taddei riceve in area da Marras e cerca di sorprendere Proietti Gaffi con un sinistro al veleno, palo pieno. Al trentacinquesimo ancora Taddei ci prova dal limite dell'area, sfera deviata in corner. Al trentanovesimo il traversone di Colombaretti, deviato da Rosini, costringe Scotti una parata tutt'altro che semplice. Al quarantesimo il Rimini si porta in vantaggio. Punizione di Taddei, Proietti Gaffi non trattiene, Spighi rimette al centro, Morga impatta di testa, il portiere Granata viene disturbato dai suoi compagni, che non riescono a rinviare, Rosini spedisce in fondo al sacco. Si va all'intervallo con i Biancorossi meritatamente avanti. All'ottavo delle riprese, sugli sviluppi di una rimessa laterale di Colombaretti, Berretti calcia a colpo sicuro, Scotti si salva, poi Tonani fallisce il tapin da due passi. Al dodicesimo tiro dal limite di Delcore, Scotti è superlativo, poi il portiere Biancorosso si allunga ed evita con una manata che Tonani e Cazzola possono ribadire in rete. Al quarto d'ora Taddei, dopo aver calciato dalla bandierina, alza la sfera, Morga incorna, pallone tra le braccia dell'estremo di casa. Al ventunesimo morga in profondità per Taddei, la cui battuta sfila lato di un niente. Al ventiduesimo ancora Taddei conclude, questa volta di destro, a lato. Al ventisettesimo il Fano pareggia, punizione dallo spigolo dell'area di Sevieri, Devine di testa prima Delcore e poi Berretti, per Scotti non c'è nulla da fare, 1-1. Al trentasettesimo il tentativo di Delcore, dopo una rimessa di Colombaretti, manda il pallone alto. Al minuto trentotto Maranti, appena richiamato in panchina, dice qualche parola di troppo al collaboratore appostato sotto la tribuna centrale e raggiunge così il compagno di squadra Barrella, cacciato dalla panchina per lo stesso motivo, 13 minuti prima. Al quarantunesimo D'Alessandro controlla il limite dell'area calcia, fuori. Al quarantaduesimo il diagonale di Delcore è alato per questione di centimetri. Nello stesso minuto Maita, già monito, lascia sui indici per proteste. Finisce 1-1. Grazie Grazie Grazie